Cartier Santos Diamond, eleganza, prestigio e lusso. Gli orologi da polso, da sempre simboli intramontabili di stile, classe e prestigio, raggiungono nuove vette di lusso con il Cartier Santos Diamond. Cartier, rinomato per la sua eleganza senza tempo e artigianato impeccabile, presenta un modello esclusivo che esploreremo a fondo in questa recensione. Dalle caratteristiche uniche ai materiali di alta qualità, questo orologio si distingue come un capolavoro dell'orologeria, con uno sguardo particolare agli elementi che lo rendono un investimento di stile senza eguali. Il Cartier Santos Diamond è una sublime fusione di design avanguardistico e materiali pregiati. La cassa in acciaio inossidabile non solo offre robustezza ma è anche una tela perfetta per l'esclusività della lunetta incastonata di diamanti, aggiungendo un tocco di lusso e glamour. Il Quadrante, protetto da cristallo di zaffiro antigraffio, è un'opera d'arte in sé, con numeri romani e lancette blu scuro che creano un contrasto elegante. La disponibilità in varie dimensioni assicura non solo uno stile senza compromessi ma anche una vestibilità su misura per ogni polso. L'anima di questo orologio è il suo movimento meccanico automatico svizzero di alta qualità, garante di una misurazione del tempo precisa e affidabile. Le funzionalità aggiuntive, come la visualizzazione della data e la resistenza all'acqua, aggiungono un livello di praticità, rendendo questo orologio non solo un compagno elegante ma anche versatile per ogni occasione. Possedere un Cartier Santos Diamond va oltre il possesso di un orologio, è un'affermazione di status e raffinatezza senza paragoni. Oltre a essere un'opera d'arte orologera, questo orologio è una dichiarazione di lusso e prestigio, una tradizione tramandata attraverso le generazioni. La sua esclusività lo posiziona tra le icone dell'orologeria di lusso. Il movimento meccanico svizzero di alta qualità garantisce una misurazione del tempo impeccabile, sottolineando la precisione che è il marchio di fabbrica di Cartier. La resistenza all'acqua offre una versatilità eccezionale, consentendo un uso quotidiano senza compromessi. indossare il Cartier Santos Diamond non è solo una scelta di stile, ma un'affermazione di un'eleganza senza tempo che attraversa epoche e generazioni.